qua dietro ci abbiamo alla porta io non ci credo finché non vedo questa bellissima piscina ragazzi sarà possibile che ci siano degli avaiani che vivono qua dietro al casotto del pescatori e invece sì, e invece sì abbiamo delle avaiane avaiane vere che vengono dalle isole avai, avai, avai guardate che meraviglia abbiamo delle avaiane fantastiche ne abbiamo una difettosa un'altra difettosa due avaiane difettose su cinque rispecchiate un po' la società attuale insomma circa foto? foto guardate che roba ragazzi chi avrebbe mai immaginato che qua dietro al casotto dei pescatori ci fossero delle avaiane vere che vengono dalle isole avaie avaie una meraviglia incredibile uno va a una serata del singolo al crossetto e vabbè si insomma si trova degli avaiani io non sapevo che vivevano qua dietro ad esempio guardate come si muovono bene ne abbiamo due che una mangia troppo o forse è incinta forse è incinta sì 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 è incinta sicuramente che meraviglia ragazzi queste avaiane grazie di questo spettacolo grazie di essere svegliate per essere venute da noi qua a bordo piscina a grossetto per questo bellissimo spettacolo guarda quella come è grossa è grossa quella è incinta di nove mesi fra poco partorisce avrà un nuovo avaiano il pubblico è letteralmente scherifatto il titolare è sparito non si sa dove sia ha dato un forfè perché non sapeva nemmeno lui che dietro al suo casotto vivevano delle avaiane forse gli avrebbe fatto visita e forse una l'avrebbe anche messa in città io lo so ma è un nuovo giugio e il brissi è un brinco che ha simpatico a madre quando è brutta questa variata più meno flore devo dire molto bravi foto ragazzi foto tutti insieme ragazzi avaiani di gruppo io voglio stare in mezzo a due avaiane donne però non voglio rimanere incinta neanche io eh sì eh vai siamo belli dov'è andata questa avaiana guarda 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 sono già là che tumano 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 guardate questa com'è bella eh oh ah non stai ah 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 è stupido ah 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 e vai siamo belli complimenti a questa avaiani chissà chissà se sono anche bravi a ballare guardate come sono bravi queste sono già imbuscata chissà da quant'è che non usciva dalla capanna ehi oh come è finire la serfine devo chiudere la mezzanotte e la musica eh che te devo dire dopo ci messiamo in costume ragazzi facciamo il bagno dobbiamo chiudere la musica fa un po' mezzanotte la mezzanotte chiude dopo si fa il bagno senza musica di parlanti può parlare con il microfono parlare? no il microfono no non posso più usare il microfono dopo la mezzanotte ragazzi come si chiama? direi che mezzanotte chi fa il bagno guardaci dopo mezzanotte devo spegnere il microfono e spegnere la musica però potete continuare a parlare a fumare a fare il bagno a fare l'amore quello che volete senza urlare però qual è? direi ok sento urlare fare l'amore senza urlare beh buon urlare sì dai ma senza a me mi è mai piaciuto io ho sempre messo la mano in bocca la voglio affogare ecco la qua santa subito fatela santa subito è la protagonista il fondo è ancora vergine o no è ora è ora io ho sempre messo la mano in bocca Grazie a tutti Grazie a tutti Dobbiamo fare tanti auguri a Milena Che oggi compie 40 anni Complimenti e auguri per i 40 anni di Milena ragazzi 40 anni è un po' viva Tanti auguri veramente per il tuo compleanno Che è in questo istante A te Tanti auguri a te Guri a tutti Tanti auguri a Milena Yeah Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Milena Happy birthday to you Bye Ragazzi devo dare la parola a un signor La musica l'ho già spenta Milena tanti auguri Grazie Grazie Non vedo niente io Ma non vedo un cacchio Non vedo niente dove sono Milena mi ha fatto il compleanno Ti voglio fare fare gli auguri di qualche personaggio dello spettacolo Grazie Fai un video A te e a tutti i partecipanti Allora vieni Mike Allora grazie Buonasera a tutti amici ascoltatori Quaranta 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 Ah un applauso Voglio fare fare gli auguri anche al mio amico Corrado Vieni Corrado Signori e signori Buonasera a tutti Questo ci bacca lì Ci bacca lì Ci bacca lì E una serata Devo dire Veramente straordinaria E devo complimentarmi Con tutti quanti Oh E' quasi come una corrida Qui Dobbiamo ringraziare Celestino Tanti auguri A Milena E a questo punto La linea va a Gianni Milà Vediamo un attimo Signore e signore Buonasera a tutti Da Gianni Milà Scusate Che i signori qui in prima fila Sarete coperti dai miei sputi Ma questo è il bello della diretta Siamo qui per collegarci Con tutti i campi di calcio Il plus sportivo In collaborazione con il GR1 Presenta tutto il calcio Un minuto per minuto Viene ancora Roberto Portoluzzi Dallo studio Il risultato di primi tempi A Firenze A Firenze A Firenze A Firenze A Firenze A Firenze A Cagliari 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 E la linea va a Bruno Pinzul Ricordate Bruno Pinzul Con l'Italia L'ultimo L'ultimo E poi vi lascio Vieni Bruno Per gli spettatori sportivi All'ascolto Botto per l'Italia Da Bruno Pinzul Siete collegati Con la comunale Di Stoccarda Dove l'Italia Affronta la Germania In una partita Attenzione Attenzione C'è un calcio Di rigore Questa propria Non ci voleva Un giocatore E' stato espulso Perché era un Fakiro indiano Aveva le scarpe Chiodate All'interno Avere grazie Bravo Grazie Bravissimo Complimenti Grazie Ma eri più bello Grazie Bravissimo Bravo Bravo Complimenti Vai Grazie 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 a tutti